... Se portavi i soldi veri, era tutto più semplice? Ah, sì, perché quelli secondo te sono finti. Ah, Burina, lo sai che cosa vuol dire assegno circolare? Beh, ci penserà il cassiere. Ah, e allora? Ecco, siccome... Ai, 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 quando questa comincia con siccome, su, avanti, sentiamo. No, niente, Stefano non si è potuto fermare a Roma, è dovuto andare a Milano. Sì, ha metto il prezzo alle saraghe. È questione di giorni, intanto ho portato a 500.000 lire, ecco qua. Bello sforzo. Ma scusa, avevamo detto due milioni per uno. Cominciamo male, eh? E che, colpa mia. Allora mi riprendi i soldi miei. Perché? Non ci sto, tutto è uguale o niente. Che pazienza che ci vuole. Se adesso ti ci metti pure tu. Senti, garantisco io per Lolita. Ti sta bene? Se quel porco non glieli ridà, ce li rimetto io di tasca mia. Sei contenta? Ecco fatto. Allora scriviamo. Lolita, 500.000. Giovannetti, Trasaghi, Zellero, Diotallevi. Siamo noi! Su, tenete i soldi pronti, se no facciamo la solita figura da disgraziati. Sì. Apertura di conto corrente, firma lei, signora? Veramente, dobbiamo firmare tutte e quattro perché siamo sociali. Bene, firmi qua. Ma tu sai firmare o fai la croce? Grazie. 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 Grazie.